Troppa incertezza che ha provocato danni ingenti all'economia. Il vicepresidente della regione e assessore al commercio Mirko Carloni oggi è tornato a parlare delle riaperture. Se da una parte si attendono i dettagli sul nuovo decreto del governo Draghi, dall'altra continuano le lamentele e la preoccupazione di chi potrà aprire soltanto all'aperto le attività o di chi addirittura sarà costretto a rimanere chiuso per mancanza di spazi. Intanto abbiamo dato noi al governo con l'ampio anticipo una disposizione di linea guida per riaprire e lì non c'è scritto che si deve stare all'aperto. Abbiamo dato invece piuttosto la possibilità di riaprire tutte le attività anche in una zona di fascia rischio rispettando i protocolli come è auspicabile in una crisi che ormai non è più temporanea ma è stabile. Mercoledì ci sarà il confronto, credo che domani ci sarà il comitato tecnico scientifico che valuterà le nostre proposte, intendo di tutte le regioni. E contemporaneamente poi mercoledì invece c'è il confronto Stato-Regioni sulle modalità per la riapertura, quindi sarà un confronto anche duro ma noi terremo la posizione. Infatti, prosegue Carloni, non possiamo scaricare in questo modo con ulteriori aggravi burocratici le scelte sulle riaperture. Non è possibile che un paese intero debba sottostare all'opinione di quattro scienziati che stanno dentro il comitato tecnico scientifico ma vadano tenuti in ascolto soprattutto coloro che hanno una rappresentanza democratica e una competenza del territorio e soprattutto delle materie di competenza che è come il commercio, la polizia amministrativa e tutto quello che in questo momento è fermo. Per esempio le palestre, che sono uno dei settori che più di tutti ha sofferto questa chiusura, i teatri, i cinema, dobbiamo ridare regole certe. Il clima di incertezza che con cui si è avvolta tutta la gestione del Covid ha fatto dei danni molto forti all'economia. Adesso sulla ripartenza bisogna dare regole certe.